Sì dai 5 minuti mia Dai è mezz'ora che siete chiusi, cosa state facendo? Amore, a pranzo non c'è niente, come facciamo? Pizza! Niente, il cortile interno non lo becca mai, è già 10 minuti che gira qua sotto, lo mandiamo? A presto No, quella lì no, l'abbiamo sentita 100 volte Va bene dai Sì dai, adesso usciamo, mi preparo No , non è miервi Grazie a tutti.